E esamineremo ora i tre principali interrogativi che riguardano l'UFO. Primo, la provenienza. Chi sono? Perché bene? C'è un corpo! Individuato UFO con direzione Nord Atlantico. Allerta, Rosso! Provate ad immaginare un pianeta morente, in un angolo sperduto dell'universo, senza più risorse naturali, con i suoi abitanti sterili, condannati ad estinguersi.